Oggi faremo un passo indietro, andremo ad ottimizzare un modello di dati che avevamo già visto nelle precedenti lezioni. Questo perché? Perché abbiamo visto nelle precedenti lezioni due cose molto importanti. Uno è che andare a mettere le dimensioni nella tabella dei fatti non va bene perché andiamo a ripetere le dimensioni tante volte quante sono i nostri fatti, quindi questo va a ingrandire il nostro modello di dati. Il secondo è che se abbiamo una dimensione nella tabella dei fatti, rispetto a che avevano una tabella delle dimensioni a parte, dobbiamo scrivere le formule DAX in modo differente e questo potrebbe creare anche confusione perché dovete ragionare in modi differenti. Quindi andare ad ottimizzare un modello è sicuramente la cosa migliore perché meglio sprecare dei cicli in Power Query per andare ad ottimizzare il modello in fase di aggiornamento che avere il modello sporco e poi farlo lavorare male quando magari avete centinaia di utenti che accedono al report. Quindi è sempre meglio avere il modello ottimizzato fin da subito. Attenzione, non fatelo dopo perché se lo fate dopo significa rifare il frontend da capo perché le formule DAX si scrivono appunto in modo differente. Quindi attenzione a questa cosa, concentratevi molto sui modelli all'inizio perché si tende sempre a partire, si parte, si parte, faccio, faccio, arriva il risultato, arriva il risultato, funziona tutto bene perché lo state usando solo voi, poi succede che accedono gli utenti, il modello è stato pensato male, vi ritrovate a rifare tutto da capo. Quindi attenzione. Ultima nota prima di andare a vedere il nostro modello che l'ho diviso comunque in due lezioni questa ottimizzazione. Se potete fare questo tipo di ottimizzazione nei sistemi di backend dietro a Power Query, ben venga perché sono i posti giusti, bisogna cercare di avere i dati già pronti dietro. Se arriviamo in Power BI e non sono ottimizzati, ok, non importa, se abbiamo solo questo strumento lavoriamo con Power Query. Ma se abbiamo altri strumenti dietro è meglio lavorare dietro così quando noi andiamo a caricare il nostro dataset all'interno della service e andremo ad aggiornarlo, il nostro servizio di Power BI lavorerà meno quando andremo ad aggiornare il nostro dataset. Noi dobbiamo sapere che lavoriamo in cloud, a un certo costo è cloud, quindi cercare di ottimizzare i calcoli è la cosa più importante perché ci costa tanto poi a risorse. Quindi cerchiamo di farlo più direttamente possibile. Quando non possiamo utilizziamo Power Query e facciamo esattamente quello che faccio io adesso. Allora, questo è il nostro modellino che abbiamo già visto in precedenza. Tabelle del calendario 2, una per ogni data, poi prossimamente vedremo come gestirne anche una sola. Tabella di fatti è la tabella delle anagrafiche dove abbiamo l'articolo con alcuni attributi. E qui c'è sempre l'articolo e anche qua sui fatti troviamo altri attributi che non abbiamo qui dentro. Quindi dobbiamo creare degli indici e spostare gli attributi tutti di qua. Poi ci sono degli attributi della commessa che andremo a vedere nella prossima lezione come andare ad ottimizzare anche questa parte. Allora, passiamo alla fase di Power Query. Quindi andiamo nel menu trasforma dati così apriamo Power Query ed eccoci qua. Allora, da subito verrebbe da dire, perfetto, io devo far sparire ad esempio la famiglia, l'articolo linea e l'unità di misura che sono attributi dell'articolo e li dovrei spostare di qua. Allora, vengo subito a pensare. Perché non vado su una grafica, mi faccio un bel combina, adesso è un'operazione sbagliata ma vi faccio vedere cosa succede. Vengo da qua, fatti whip, vado in relazione con l'articolo, do l'ok e poi quando sono qui esplodo e mi tiro fuori le informazioni che mi interessano, quindi questi tre. Do l'ok, ecco fatto, mi sono tirato fuori gli attributi e adesso li cancello di là. No, non va bene, perché poi quando noi facciamo questo tipo di operazione, e qui andiamo a fare un left, sulla tabella della grafica l'articolo si ripete tante volte. Infatti se andiamo qua, per ogni riga che emergia l'articolo, sulla tabella dei fatti troviamo informazioni che si ripete tante volte. Ipotizzate di avere milioni di righe, potrebbe essere che su ogni riga vi portate dietro milionati di righe. E questo non è molto performante per Power Query. Quindi qui abbiamo ottenuto sì il nostro risultato, poi avremmo dovuto fare un raggruppa e stringere di nuovo tutto, e ancora andiamo a consumare risorse. E poi c'è un'altra cosa che non va bene, perché se andiamo nella tabella dei fatti resterebbe questa, perché poi cancelliamo questa, questa e questa, però questa anche non va bene, perché qui bisogna andare a metterci un indice, 1, 2, 3, 4, e così via. Mettere l'articolo esteso non va bene, perché comunque pesa anche questo, quindi dobbiamo mettere i numeri per fare le cose fatte bene. E se andiamo a mettere il numero, noi potremmo calcolare l'indice di qua, ma poi non potremmo prenderlo di qua, perché abbiamo già fatto una relazione con la fact whip, e si creerebbe un riferimento circolare, e questa cosa non si può fare. Quindi come facciamo a risolvere questo tipo di problema? La cosa migliore è creare delle tabelle a se stanti e lavorare con quelle, quindi andare sull'anagrafica e facciamo un tasto destro, duplica. Poi io qui ho creato una cartella table key, così le metto tutte qua, la chiamo ad esempio key, se me lo fa fare, key anagrafica. Perfetto, una volta che sono qua, io premo l'articolo, ok, e gli dico, ok, vai su rimuovi colonne, e faccio rimuovi altre colonne, così se nel CSV mi compaiono altri attributi, ok, Power Query non andrà in errore, perché mi manterrà l'articolo che è quello che mi interessa, se scarta tutte le altre, se io avessi cancellato le altre colonne e poi me ne compare una, mi va tutto in errore, ok? Quindi non funzionerebbe. Noi qui abbiamo visto che siamo molti a 1, quindi noi sappiamo che nell'anagrafica l'articolo esiste solo una volta, è univoco, non c'è due volte, quindi noi qui possiamo già andare ad applicare un indice. Adesso vedremo un altro problema che sorge e vediamo anche come andare a risolverlo. Quindi andiamo suggiungi colonna, colonna, indice, da 1 a x. Perfetto, abbiamo creato il nostro indice. Andiamo subito a vedere il problema, perché noi adesso potremo andare nell'anagrafica, andare in relazione con l'articolo, e l'articolo è che è anagrafica, tiraci fuori l'indice. Poi fare la stessa cosa sul whip e poi andare in relazione, così apparentemente andiamo a risolvere il problema. Però si ripresenterebbe il problema che quando andiamo in relazione, la fact whip poi ci fa espandere ancora le righe, quindi non funzionerebbe neanche in questo caso. Però vediamo nella fact whip, che noi qui ce l'abbiamo una volta sola. Andiamo in merge e vediamo che cosa succede. Quindi adesso vi faccio vedere un altro problema che potrebbe succedere. Andiamo qui, andiamo in join con l'anagrafica, con la chiave anagrafica, articolo su articolo. Così ci portiamo dentro l'indice che è quello che ci interessa, dopo dovremo far sparire il resto. Andiamo qui, esplodiamo questa, tiriamo via l'articolo che non ci interessa e ci teniamo l'indice. Vediamo che qui l'indice compare, quindi abbiamo fatto giusto, però ci sono dei null. Quando succede una cosa di questo tipo, quindi partiamo da un'anagrafica, che per noi è consistente, quindi ha dentro le informazioni di tutto, e poi andiamo in relazione con la nostra tabella di fatti e compaioni di nani, significa che la nostra tabella dell'anagrafica in realtà non è consistente. È sprovvista di qualcosa, quindi i casi sono due. O l'anagrafica di partenza, e questo è il nostro caso, è parziale di proposito, perché è fatta in un certo modo, oppure l'anagrafica dal sistema, che ci sta arrivando dal sistema, non è stata popolata su tutto, e quindi dobbiamo andare, ad esempio, nel gestionale e inserire le righe che mancano per andare a compilare l'anagrafica, altrimenti poi non parlerà con la nostra tabella di fatti. Ok, quindi nel secondo caso dovete andare nel gestionale. Nel primo possiamo andare a risolvere. Qui il problema qual è? Che la tabella dell'anagrafica, se noi adesso prendiamo questo indice e lo spostiamo un po' più a sinistra, vediamo che la tabella dell'anagrafica è stata pensata per una determinata famiglia di lavoro. Adesso ce la faccio, eccoci qua. Quindi se andiamo a vedere, che cosa c'è? Qui è sempre popolata dove c'è f196. Dove non è f196 non è popolata, vedete che il null è sempre altrove. Perché? Perché l'anagrafica che io ho posto qua ha degli attributi che sono buoni solo per la famiglia f196. Per le altre famiglie questi attributi non hanno senso, ad esempio. Cioè non esistono, ok? Invece gli attributi articolo linea, unità di misura, famiglia, sono buoni per tutti i tipi di articolo. E quindi va comunque bene inserirli qui. Perché dove avremo f196 questi saranno popolati. Dove sarà diverso da f196 questi saranno annali. Ma è giusto che siano annali. Perché questi campi corrispondono alla famiglia f196. Però per i campi articolo, unità di misura e famiglia li troveremo popolati per tutti. Quindi va sempre bene utilizzare comunque questa anagrafica e andremo ad estenderla partendo dalla tabella di fatti in questo caso. Ovviamente anche qua, se potete estendere questa anagrafica sempre da dietro, meglio, ok? Però se non potete come si fa? Si va di qui, quindi andiamo sulla nostra tabella di fatti. Qui abbiamo la chiave che non tornava, quindi togliamo il riordina. Questa chiave qua in questo momento non va bene, quindi togliamo tutto di nuovo, ok? E al posto di partire con un'anagrafica, con un indice dell'anagrafica che parte dalla tabella anagrafica, dobbiamo creare l'indice della tabella di fatti. Perché lì abbiamo tutti i nostri articoli. La tabella dell'anagrafica abbiamo capito che è parziale. Quindi andiamo sulla tabella di fatti, duplichiamo questa, ok? E andiamo qua su e facciamo Key anagrafica fact perché ci fa capire che partiamo dalla tabella dei fatti. A questo punto prendiamo il nostro articolo, ok? E facciamo Rimuovi colonne, rimuovi altre colonne perché è sempre lo stesso discorso. Se compare una colonna non ci deve saltare tutto, così ci mantiene solo l'articolo. Ok, abbiamo il nostro articolo, adesso dobbiamo comprimerlo, quindi facciamo un raggruppa e facciamo, anzi potremmo fare facciamo direttamente l'articolo, facciamo un raggruppa sull'articolo e facciamo un conteggio delle righe. Così facciamo solo un passaggio. Poi il conteggio non ci interessa, quindi facciamo un elimina e noi qui abbiamo il nostro articolo univoco. Adesso noi cosa facciamo? Aggiungiamo l'indice, quindi andiamo qui e facciamo da 1 a x, ok? Quindi abbiamo il nostro articolo con l'indice univoco. Perfetto. Adesso, questa praticamente che cosa succede? Noi dobbiamo aggiungerlo sulla tabella di fatti, quindi andiamo sulla tabella di fatti, andiamo sul menu home, combina merge, prendiamo la key fact, anagrafica fact che arriva dalla fatti, ok? Andiamo articolo su articolo e ci tiriamo fuori l'indice. Quindi adesso sì, funziona nel modo corretto. Vediamo che è popolato corretto dappertutto. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo mettere gli indici anche sull'anagrafica, ok? Sull'anagrafica facciamo una cosa diversa. Perché in realtà l'anagrafica di solito, questa è una buona cosa a partire dai fatti, se vi trovate in questa condizione avete un vantaggio, che andate a tagliare il record dell'anagrafica per quelli che non esistono nella tabella di fatti. Perché noi potremmo andare adesso qui, no? Fare combina merge di query, andiamo di qua e andiamo in join sempre con la stessa tabella, articolo su articolo. E la facciamo in left. In left cosa significa? Che prendo tutte le informazioni che ci sono nella prima tabella e solo quelle che combaciano della seconda. Se io faccio così e do l'ok e poi vado ad esplodere questa cosa qua, articolo, tiro via, e ho l'indice, vedete che qui ho il mio indice, ok? Quindi adesso compare tutto. Però in realtà, cosa sta facendo? Io non sto tirando proprio fuori tutto. Mi sto tirando fuori l'indice di dove l'articolo combaccia qui. Quindi noi dobbiamo modificarlo, perché dobbiamo andare qui sul merge, e dobbiamo dirgli, no? Mi devi tirare fuori. Left outer join. Il left outer è solo quelle che sono nella prima tabella e quelle che combaciano nella seconda. Noi dobbiamo fare full outer, tutte le righe da entrambe. Quindi quelle che ci sono di qua e quelle che ci sono di qua, ok? Quindi fatta sta cosa, che cosa dobbiamo fare? O meglio, potremmo anche fare un write. Noi potremmo fare un write e noi gli diciamo tutte le righe della seconda e solo quelle che combaciano della prima. Questo è ancora meglio. Perché quello di prima, se noi facciamo il full outer, prendiamo tutto di qua e tutto di qua. Però magari, dato che stiamo facendo questo tipo di operazione partendo dalla grafica, noi abbiamo delle righe all'interno della tabella di fatti che non servono all'interno della tabella dell'anagrafica, che non servono perché la tabella di fatti magari non le sta usando. Quindi potremmo andare ad ottimizzare riducendo un pochino la nostra tabella delle anagrafiche, prendendo solo le righe che esistono nella tabella dei fatti, ok? Se non avete capito bene, riscoltate gli ultimi due minuti che così lo capirete meglio. Ma comunque il succo è cercare di ottimizzare il più possibile, togliere il più possibile le righe che compaiono nella tabella delle anagrafiche. Quindi col full outer le prendiamo tutte. Con write noi prendiamo tutte le righe che ci sono qua e solo quelle che esistono di questa qua, che è quello che ci interessa, ok? Così andiamo a tagliarne un po'. Quindi facciamo l'ok. E adesso noi andiamo ad esplodere. Che cosa esplodiamo? Dobbiamo esplodere l'articolo e anche l'indice. Perché anche l'articolo? Perché... Adesso togliamo questo che l'ha fatto in più. Perché? Eccoci qua. Perché tiro fuori anche l'articolo? Perché ad esempio questo articolo non esiste per la famiglia LF196, ok? E quindi invece questi attributi che appartengono alla F196 devono essere a null. È giusto che sia non a nulla. Però così le abbiamo prese tutte. Noi abbiamo tutti gli articoli che abbiamo nella tabella dei fatti, ok? Quindi noi qui abbiamo l'indice. Adesso cosa possiamo fare? Possiamo togliere l'articolo da qua, che non ci serve più perché in realtà quello corretto da usare è questo, ok? Poi, qui possiamo rinominare l'articolo che è esattamente questo. Noi qui abbiamo l'indice. Una cosa che non abbiamo fatto è dare un nome all'indice. Quindi facciamo un passo indietro. Andiamo qua. Indice. Se noi andiamo qui, è sempre meglio poi modificare il codice di lì. Indice anagrafica. Perché se poi andiamo a crearne diversi, si chiamano tutti indici. Anagrafica. E diventa poi difficile andare a capire come si chiamano. Quindi io adesso l'ho modificato. Se andiamo di qua, vediamo che non funziona più. Quindi MERS di query. Dobbiamo rimettere a posto. Quindi qui il MERS va bene. Questo lo andiamo a riprendere e ritiriamo fuori il campo corretto. Quindi attenzione anche se cambiate i nomi di campi dopo perché vi tocca ripassare poi i passaggi. Quindi indice anagrafica. Andiamo di qua. Anche qua andiamo a estrarre il campo giusto che è questo. Ok. Poi avevamo il rimosso e colonna dell'articolo. Il rinomino. Eccolo qua. Perfetto. Adesso sì abbiamo tutte le informazioni corrette. Adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo il nostro indice di qua. Abbiamo il nostro indice di là. Non ci resta che tirarci dentro gli attributi dalla tabella di fatti. Quindi adesso sì andiamo in MERGE con la tabella di fatti. Quella principale che è questa. Prendiamo il nostro indice anagrafica con l'indice anagrafica. Ok. Qui va bene il LEFT perché qui comunque già abbiamo tutto. Ok. E ci dobbiamo tirare dentro gli attributi che abbiamo di qua. Quindi facciamo OK. Eccoci qua. Se noi adesso andiamo sulla riga vedete che però abbiamo delle ripetizioni. Ad esempio qua. Quindi questa qui non va bene. Ok. Cosa conviene fare allora? Perché quando andiamo in LEFT poi succede sempre questa cosa qua. Quindi qui quando noi abbiamo fatto questo tipo di attività e abbiamo creato l'indice la cosa che conveniva fare era prendere anche gli attributi che ci servono. Quindi se torniamo indietro e andiamo su avanzate conviene prendere anche gli attributi famiglia articolo linea e unità di misura che sono gli attributi che poi vogliamo spostare di là. Poi facciamo l'OK. Ecco che abbiamo creato questo. Qui è sempre univoco perché comunque questi sono attributi di questo articolo. Ok. Poi rimosse colonne. Abbiamo rimosso il conteggio che non ci interessa e abbiamo aggiunto la colonna di indice. Perfetto. Adesso che abbiamo aggiunte queste sulla fact whip non cambia niente. Ok. Perché abbiamo sempre il nostro indice. Sulla anagrafica adesso che siamo qui al punto che eravamo qua giù che abbiamo l'articolo e l'indice facciamo un join ancora o meglio andiamo indietro prendiamo la tabella che è anagrafica la esplodiamo e ci tiriamo fuori gli attributi che ci mancano eccoli qua quindi li estraiamo e ecco che abbiamo le nostre informazioni quindi poi abbiamo rimosse colonne che ci tira via l'articolo e rinomina dell'articolo e abbiamo l'articolo lino a famiglia indice e unità e misura esattamente tutto quello che ci interessava poi cosa facciamo andiamo nel whip qui non ci interessa più avere questa 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 e questa e le cancelliamo ok quindi fatta sta cosa che cosa succede che se noi andiamo questa allora non ci serve più che quella che abbiamo visto all'inizio abbiamo questa che ci serve ad appoggio che porta da tabella di fatti quindi facciamo un tasto destro l'abilità caricamento la togliamo perché non vogliamo venga caricata nel modello dati ci serve solo di passaggio per fare gli indici e cosa facciamo facciamo chiudi e carica e vediamo cosa succede quindi adesso noi facciamo applica qui è sparita la chiave ok però lui l'ha già identificata perché c'è indice anagrafica che è indice anagrafica qui sono spariti gli attributi dell'articolo e sono comparsi di qua se andiamo a vedere la nostra tabellina come la stavamo vedendo su Power Query adesso qua noi abbiamo praticamente la tabella di fatti che è questa e abbiamo il nostro indice anagrafica che è qua se andiamo sull'anagrafica che è questa abbiamo l'indice anagrafica che è qua e tutti i nostri attributi se togliamo il filtro sulla F196 vedete che ci sono anche adesso ho sbagliato lo devo fare al contrario vedete che ci sono anche le altre famiglie cosa che prima non avevamo e quindi effettivamente adesso abbiamo una tabella dell'anagrafica che è effettivamente consistente dove per questi tre campi è valida per tutti per gli altri campi è valida solo per la famiglia F196 ma è giusto così perché è un tipo di anagrafica che funziona così quindi questa è la prima parte di ottimizzazione nella prossima lezione andremo a vedere come scorporare le dimensioni degli attributi della commessa che è una cosa ancora un po' più differente perché non abbiamo una tabella di partenza ok bene con questa lezione è tutto se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like iscrivetevi se non siete ancora iscritti se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il bottoncino abbonati qua sotto compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi dettagli se invece verrete sostenermi in altro modo sotto trovate il merchandising quindi ci sono i miei prodotti con lo slogan che utilizzo all'interno del mio canale che è BI4U quindi per voi business intelligence per voi ci sono anche magliette cappellini tazze c'è un po' di tutto guardate che dateci un occhio che troverete sicuramente qualcosa che vi piace così mi aiuterete a mandare avanti la baracca e niente vi ringrazio per avermi seguito ci vediamo al prossimo video a presto ciao